Buongiorno a tutti gli amanti dei cagnolini, benvenuti a Metodgouse questa mattina abbiamo un piccoletto con la museroletta perché lui non si vuole fare il bagnetto e quindi ha detto se me lavi io ti stacco la mano ma è bravissimo, guarda guarda che sta volendo, ma non te la vuole va allora sto aspettando che adesso ci...